La CGL chiede un incontro alla Direzione Generale ASP di Caltanissetta sul piano sanitario regionale legato agli investimenti previsti dal PNRR Missione 6 circa gli ospedali di comunità, le case di comunità e centrali operative territoriali. Lo scorso 2 febbraio è stato l'assessore Razza a presentare alle organizzazioni sindacali il piano dedicato alla sanità contenuto nella missione che si divide in due articolazioni e prevede una per potenziare l'assistenza territoriale e il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e l'altro che guarda la digitalizzazione e il rafforzamento del capitale umano del sistema sanitario nazionale potenziando formazione e ricerca. Così il sindacato chiede che i criteri siano più trasparenti possibile e condivisi con i territori per quanto sarà realizzato nel Nisseno. Abbiamo chiesto un incontro alla direzione generale a seguito della riunione che si è avuta lo scorso 2 febbraio all'assessorata della sanità a Palermo che ha riguardato il piano regionale sanitario che è stato predisposto in osservanza della missione 6 del PNR che riguarda le risorse assegnate proprio alla sanità. È stato predisposto un piano che riguardava l'allocazione delle strutture sanitarie territoriali e per questo abbiamo chiesto un incontro per avere maggiore trasparenza sui criteri che sono stati utilizzati. Parliamo di case di comunità, di ospedali di comunità che saranno allocati nel nostro territorio. Altro punto della richiesta di confronto riguarda il personale sanitario. Il sindacato chiede chiarezza su chi dovrà prestare servizio nelle nuove strutture previste dalla manovra. La cosa che ci interessa è anche sapere quale sarà il personale destinato in queste strutture perché rischiamo di avere delle strutture completamente vuote perché le piante organiche appena approvate non hanno previsto questo personale in più quindi noi chiediamo nuove risorse lavoro per queste strutture e poi soprattutto la stabilizzazione del personale tuttora precario quindi accelerare le procedure di stabilizzazione laddove appunto la normativa lo permette.